Le condizioni delle strade e cittadine del comune di Capaccio Pestum richiedono interventi di manutenzione sia per questioni legate alla fruibilità viaria che pedonale, nonché per garantire un decoro civico. A poche settimane dal suo insediamento, il primo cittadino Franco Alfieri comincia il suo mandato con interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale comunale mediante il ripristino e di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso. L'intervento si rende necessario a seguito di numerose segnalazioni da parte della polizia locale e dei cittadini, nonché da sopralluoghi effettuati. L'importo complessivo dei lavori è pari a 69 mila euro.